plauto tito maccio plauto 250 184 avanti cristo commediografo romano uno dei più prolifici e importanti autori dell'antichità latina autore teatrale che più influenzò il teatro occidentale esponente del genere teatrale della palliata ideato dall'innovatore della letteratura latina livio andronico in mercator dice allora quando sei giovane ed il sangue ti circola vigoroso nelle vene devi provvedere alle tue cose per la vita che ti sta davanti commento se l'artista non ha ancora di sé una visione spirituale immiserisce la sua esistenza nel sangue che è giovane nelle cose da fare questa visione della vita è la più giusta per lui in quel momento ma lo tiene chiuso nel potere della mente che è cecità spirituale perché non riconosce l'evolvere nella molteplicità delle vite e grazie a tutti grazie a tutti